Un saluto agli ascoltatori di Domenica Italiana, sono Mimmo Siena, vi parlo dalla redazione di Speciale News Web 24 a Cerignola in Italia. L'emergenza coronavirus per quanto concerne il nostro Paese ha portato a una ulteriore serie di misure restrittive che sono state decise dal Presidente del Consiglio Conte nella giornata di mercoledì 11 marzo e che sono entrate in vigore il giorno successivo, il 12. Chiusi bar, ristoranti e tutti i negozi di vendita al dettaglio ma sono salvati gli elementi essenziali, non solo i negozi che vendono alimentari ma anche trasporti pubblici, poste banche, servizi assicurativi, edicole, giornalai e quant'altro. Restano chiuse per due settimane, bar e ristoranti ma con la consegna che si può effettuare l'assistenza a domicilio. Va anche ricordato che per chi deve andare a piedi in città o fuori città ci sarebbe e c'è bisogno di un modello di autocertificazione. Andiamo a sentire insieme cosa ha detto il Premier Conte nella conferenza stampa di mercoledì 11 marzo con l'annuncio delle nuove misure per prevenire l'emergenza coronavirus.